Ultimo quarto, 35 a 59. Buongiorno a tutti. 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 6 minuti e 30 al termine. Più due. 63 a 40. Buongiorno a tutti. 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 65 a 40 4 minuti e 50 40 a 65 40 41 42 42 43 44 44 46 65 a 42 sempre avanti Academy 45 65 44 45 45 45 65 66 a 44 66 a 45 66 a 47 66 a 47 67 67 68 69 72 71 72 73 73 74 73 75 72 72 73 73 74 74 75 75 75 76 75 76 77 49 a 66 dai papà dai 68 68 vai dai 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 che c'è dai 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 bravo 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 Sanzio 49 a 69 51 a 69 un minuto alla fine 52 1 4 3 4 5 5 4 5 5 5 53-69 2 2 3 4 4 5 6 6 7 Ed è finita contro SG Fortitudo, Fortitudo Academy vince, 53 a 69 per Academy. Grazie per la visione!